Federica e Serena erano due splendide ventenni, studentesse di medicina e volontaria in associazioni benefiche. Sono morte tragicamente la notte del 6 aprile 2009 all'Aquila in seguito a quella terribile scossa di terremoto. Il loro ricordo sembra non essersi affievolito sia nei loro comuni di origine, Montorio e Basciano, sia nell'intera provincia terramana, grazie anche ai loro compagni di scuola, che hanno fondato un'associazione che porta proprio il nome di Federica e Serena. Il gruppo organizza ormai da 12 anni una notte musicale dedicata alle due ragazze. La prossima si terrà al Parco Fluviale di Teramo, sabato 10 settembre, e la star Saranada, accompagnata dal doppiatore Fabio Celenza e da artisti locali, come le attrici Elisa Deusanio e Margherita Di Marco, il fumettista Carmine Di Giandomenico e il cantautore Francesco Sbraccia. Sarà uno spettacolo molto bello, ricco di emozioni e anche di risate, insomma, guardando anche la scaletta degli artisti. Sarà una serata ricca, una serata come ogni anno, come ogni edizione, che ha lo scopo di mantenere vivo il ricordo di Federica Moscardelli e Serena Scipione. Erano tue amiche? Sì, erano nostre compagni di classe. Diciamo l'idea è nata principalmente da compagni di classe, da un gruppo di, insomma, di amici, prima che compagni di classe, proprio con questo scopo e ogni anno devolviamo in beneficenza parte ricavato dell'evento, per progetti diversi, per portare avanti il messaggio di Federica e Serena, che comunque dedicavano la loro vita al volontariato. Il tuo personale ricordo di Federica e Serena? Due persone tenaci e, diciamo, dedite molto all'attenzione verso gli altri. La notte, per Federica e Serena, chiude il cartellone musicale estivo dell'amministrazione comunale al titolo Teramo Natura Indomita, che ha proposto in questi ultimi tre mesi più di 50 eventi musicali.